Il tono della voce della responsabile del canile gattile Melampo è allarmato e sconfortato. Dopo anni di iniziative, di messaggi di educazione e sensibilizzazione al mondo animale, di campagne di prevenzione e di amore incondizionato verso gli amici a quattro zampe, non credeva possibile di vedere varcare il cancello della struttura ad una decina di esemplari ancora non dotati di microchip e lasciati al loro destino. Cani di nessuno, cani soli e messi da parte come un giocattolo usato di cui ci si è stufati. Sono cani giovani, anche sotto i 12 mesi e cucciolate, che si vanno ad aggiungere ai 100 e passa ospiti che giornalmente ricevono le attenzioni delle operatrici, ma che fanno fare un salto indietro nel tempo di una quindicina di anni, quando ancora certi concetti sembravano venire da Marte anziché dalla Terra. Ancora siamo a dover parlare di microchip, di vaccinazioni, di sverminazioni. Davvero abbiamo cercato di far passare messaggi che parlano di regolarizzazione di questi membri all'interno della famiglia. Il microchip costa pochissimo, il microchip è obbligatorio per legge. Io non mi spiego come davvero 10 cani in un mese siano stati trovati, nessuno di loro aveva il microchip. Da cuccioli a cani di un paio d'anni. Quindi si tratta davvero di una mancata, alla fine è una mancata considerazione della creatura che si porta a casa. Perché se tu non la regolarizzi può scappare e diventa automaticamente un cane di nessuno, un cane senza cip e un cane di nessuno. Per non arrivare ad abbandonare un cane, lasciarlo in mezzo alla strada, ci sono degli strumenti perché può lasci che queste persone magari alle volte capitano in difficoltà. Quali sono i canali, gli strumenti per non arrivare a lasciarlo in uno scatolone in mezzo alla strada? Allora spesso arrivano dei cani che le famiglie non riescono più a gestire per problemi comportamentali. Allora esiste la figura dell'educatore che chiaramente deve essere remunerato, ma è una figura professionale molto molto importante che ci può dare tante armi per imparare a gestire un cane. Perché è vero, non si accompagna un cane nella propria casa ed è tutto fatto. C'è ancora l'idea che adotto un cucciolo, crescerà con noi, si abituerà, quindi come se non avesse un carattere proprio, come se non dovesse sviluppare qualcosa che è già suo e che da adulto verrà fuori per forza di cose. Alle volte ci si scontra ancora con aspetti che sono più culturali che pratici e questo è il grande ostacolo da superare e sul quale bisogna ancora lavorare tanto. L'informazione che noi abbiamo provato a fare anche nel comune di Fano con delle serate informative in cui sono state impegnate figure professionali come la mia, educatori, istruttori, cercano di portare una cultura cinofila adeguata. Partendo dal presupposto che viviamo con degli esseri senzienti ormai riconosciuto questa cosa, quindi fondamentalmente cerchiamo di far capire che cos'è un cane veramente, che cos'è la vita con un cane, che è molto diversa purtroppo da come spesso il senso comune si aspetta. Ora questi dolci ospiti dopo il giusto periodo di ambientamento e messi in regola con tutte le vaccinazioni saranno pronti per una nuova famiglia magari più consapevole e amorosa che li vorrà accogliere e alla quale le dolci bestiole non vedono l'ora di donare tutto il loro affetto e la loro vitalità.